E' ancora sannita il triste primato degli infortuni mortali sul lavoro. E' quello che scaturisce dall'osservatorio Vega Engineering sulla sicurezza sul lavoro. E' già da tempo che Benevento occupa il gradino più alto della triste classifica delle morti bianche. E nel 2015 i dati sono ancora peggiori. Infatti, nel sannio gli incidenti mortali sono stati 3 dall'inizio del 2015, 3 su 73 mila occupati. Un dato che tradotto vuol dire che ci sono più di 40 infortuni mortali per ogni milione di occupati. Nessuna provincia italiana ha un'incidenza del genere. Per la seconda posizione, infatti, bisogna guardare a Rovigo con 19,3 incidenti mortali su un milione di occupati. Un dato che testimonia ancora una volta quanto siano necessari quei controlli e l'applicazione delle leggi sulla sicurezza sul lavoro, più volte invocate dai sindacati sanniti. Il 2014 per Benevento si era chiuso con 8 morti bianche, che erano valse al sannio, il quinto posto in Italia, con 108 infortuni mortali ogni milione di occupati.